Storico, accetto il carico di un mondo panico, ma incomprensibile, visto da qui Visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza Visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva È piatto, il mondo certe volte sembra piatto Magari c'ha ragione qualche matto, che dice che potenti ci controllano È tutto un grande buco di una serratura, fa paura, ma ora non pensarci E muoviti seguendo il boom boom, muoviti seguendo il boom boom E muoviti seguendo il boom boom, boom boom boom, l'amore si può fare anche su zoom zoom Boom ecologico, boom tecnologico, boom economico, boom autorotico Ma è meglio dal vero, giuro, calore, profumo, chiaro, scuro Toccarsi la pelle, arrivare alle stelle, cadere, rialzarsi, sentirsi ribelle Belle, stasera siamo tutti stelle, stasera siamo tutti stelle E più c'è buio, più si brilla, anfetamina e camomilla Leggendo unice, quello che dice, in superficie a molti non piace Mazzara tustra, parla e ci illustra, che è tutta nostra questa giostra Giù il gettone, giù il gettone, giù il gettone, giù il gettone È tondo, magari non perfetto, però tondo Il mondo non è piatto per niente, non dare retta a certa gente Scatena la sua forza, la natura fa paura E buviti seguendo il boom boom Ma ora non pensarci, e muuoviti seguendo il boom boom Muoviti seguendo il boom boom Muoviti seguendo il boom boom E muoviti seguendo il boom boom La musica faringa sul zoom zoom La vita mi assomiglia a quella di Leo Blum Con l'auto elettrica non fai brum brum C'è il mio mondo silenzioso, spaziale ma non lo spazioso Forse spazzoso, spesso appalloso, spiato, spietato, spaventoso Vince che è più falloso, il mio luogo nome è coso Come coso, come coso, come coso, come Muoviti seguendo il boom, boom, muoviti seguendo il boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Bom! 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 Forse spassoso, spesso falloso, spiteado, spiteado, spiteado Vinfica è più falloso, il mio loro nome è coso Come? 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 e muoviti seguendo il boom boom, muoviti seguendo il boom 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 Radio CRT Walking on a Dream Pubblicità Dal 1972 c'è una cooperativa con una lunga tradizione custodita e valorizzata per realizzare un prodotto unico per gusto e qualità un'eccellenza dell'Irpinia ma non solo poiché cerniera di due tradizioni la campagna e la Puglia e da entrambe nasce il celebre casciocavallo podolico e quello irpino la cooperativa agricola Molara punta sulla qualità dei prodotti presenti nei più importanti ristoranti e gastronomie di qualità la cooperativa agricola Molara è a Zungoli alla via Toppo dell'Anno per info e contatti chiama il numero 0825 845 281 visita il sito www.copmolara.it presenti anche su Facebook Amelito Irpino Amelito Irpino una realtà consolidata Matullo, trattoria, pizzeria cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione menù per intolleranze e alimentari su richiesta un indirizzo affidabile e di fiducia dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione Matullo, trattoria, pizzeria e in via Libertà 12 a Amelito Irpino, Avellino per rinfo e prenotazioni 0825 47 2019 oppure 368 6075 32 chiusura il martedì Qualità, ricercatezza delle materie prime, fantasia e attenzione al cliente hanno un solo nome sfizi di carne una lunga tradizione che da anni porta sulle nostre tavole carni di prima scelta e golose pietanze che soddisfano anche i palati più esigenti ed annoiati per un passo all'ultimo minuto o un piatto prelibato la risposta è sfizi di carne il nuovo punto vendita lo trovi all'interno di Al Discount a Trevico alla via Caprareccia 31 ma puoi trovare sfizi di carne anche a San Nicola Baronia alla via Vincenzo Leone e a Carife alla via Roma 133 per info consulta la pagina facebook o chiama il numero 339 848 5709 sfizi di carne quando la qualità sposa la fantasia se cerchi il modo giusto per farti pubblicità CRT Radio è la tua soluzione passaggi radiofonici distribuzione social spot video per web tv intervista in azienda o in radio per la tua attività quindi scegli CRT Radio e TV il pacchetto giusto per te ti aspetta a partire da euro 150 per tutte le info chiama i numeri 339 4560 657 o 380 311 5430 CRT la tua vetrina sul web il programma è offerto da Teramed è il centro medico dentistico di implantologia e odontoiatria con un servizio di prestazioni mediche di altissima qualità un sistema di gestione supportato da tecniche moderne ed attrezzature di ultima generazione dove figure professionali specializzate con passione ed impegno garantiscono risultati ottimali Teramed penserà a te dalla chirurgia orale all'ortodonzia dalla paradontologia alla laser terapia e numerosi servizi medici correlati direttore sanitario dottor Patrone Annibale Albo a V431 il centro medico dentistico Teramed è a Montella Avellino alla via Ippolita Panico 9 per info scrivi a teramed09 chiocciola libero.it oppure chiama i numeri 0827 60 1732 ancora 329 176 1852 Qualità ricercatezza delle materie prime fantasia e attenzione al cliente hanno un solo nome sfizi di carne una lunga tradizione che da anni porta sulle nostre tavole carni di prima scelta e golose pietanze che soddisfano anche i palati più esigenti ed annoiati per un passo all'ultimo minuto o un piatto prelibato la risposta è sfizi di carne il nuovo punto vendita lo trovi all'interno di Al Discount a Trevico alla via Caprareccia 31 ma puoi trovare sfizi di carne anche a San Nicola Baronia alla via Vincenzo Leone e a Carife alla via Roma 133 per info consulta la pagina Facebook o chiama il numero 339 848 5709 sfizi di carne quando la qualità sposa la fantasia avete ascoltato? senti chi parla libera la tua voce tutto ciò che c'è da scoprire su volontariato sociale associazionismo e ambiente appuntamento a martedì prossimo sempre su CRT ed eccoci qui ma buon pomeriggio ed eccomi qua ben trovati io sono Cinzia Colarusso che vi farò compagnia fino alle 17 con senti chi parla e si parte con Elisa Seta qui su CRT Radio dove andiamo questa sera non l'hai letto il fondo del caffè dentro il buio c'è la seta e nei sogni quello che non c'è ho lo stesso profumo che ho messo quella volta quando ancora la notte era lunga era più lenta quanti giri facciamo prima di una carezza più sospeso più invili col cuore di chi aspetta quando entro nel tuo mondo trolla il pavimento vedo frantumarsi ogni momento non ti sa spiegare quello che sento quello che sento quante parole mastico alza la radio al massimo scalzi ballare è un classico e cantare è male anche l'argento si ossida come perla in un ostrica ma un bacio corrente elettrica è un filo di rame che diventa seta seta è un filo di rame che diventa seta dove andiamo questa sera ti ho cercato ma non so perché forse fredo faccio confusione non hai colpe ogni piccola mia insicurezza si fa grande le parole d'amore leggere come bolle intrecciarsi le mani per dir sei più forte più forte quando entro nel tuo mondo trolla il pavimento vedo frantumarsi ogni momento non ti so spiegare quello che sento quello che sento quante parole mastico alza la radio al massimo scalzi ballare è un classico e cantare è male anche l'argento si ossida come perla in un ostrica ma un bacio corrente elettrica è un filo di rame che diventa seta seta è un filo di rame che diventa seta seta è un filo di rame che diventa seta seta è un filo di rame che diventa seta seta è un filo di rame che diventa seta seta è un filo di rame che diventa seta seta è un filo di rame che diventa seta Ed era Elisa qui su CRT Radio con Seta Ancora buon pomeriggio ecco Stavo dicendo buona serata Insomma è passata un'altra settimana in un attimo Praticamente rieccomi qua in questo martedì 30 novembre 2021 Che ricordo oggi è Santa Andrea Quindi auguri a tutti coloro che portano questo bellissimo nome E auguri anche a mio nipote Andrea Ed è anche un compleanno di una nostra speaker qui a CRT Radio Olimpia, Olimpia, tanti auguri da tutti noi E quindi oggi il nostro appuntamento con due ore di senti chi parla Non solo diciamo ricchi di news ma tanta bella musica Quindi soprattutto preparatevi ecco ad essere protagonisti di queste due ore E fare un po' di compagnia con i vostri messaggi whatsapp al 328 88 12 506 E poi cosa dirvi per ascoltarci bisogna andare su www.crtiradio.com Fare un click su Ascolta la diretta Per poter appunto ascoltare questa bellissima puntata Che tra un po' inizierà nel vivo